Ciao a tutti ragazzi sono Rinneganevo e oggi siamo su un nuovo video Oggi vi farò, cioè vi informerò ed è possibile ottenere Espion e Umbreon Praticamente cambiando il nome di Eevee Come nel vecchio aggiornamento che tu potevi, cioè nel vecchio aggiornamento del prima volta che era uscito il gioco di Pokemon Go In base al nome che davi a Eevee potevi scegliere se avere Vaporeon, Jolteon o Flareon Ecco qui c'è la stessa possibilità per farlo con Eevee Cioè rifarla ancora con Eevee perché è sempre lui la nostra cavia Bisogna chiamare Sakura il primo Eevee per avere Espion e per avere Umbreon bisogna chiamarlo Tamao Io prima ragazzi ci sono riuscito, beh non era partita la registrazione Ci ho riprovato a farlo dopo ma non so perché non ha funzionato Però le prime due posso confermarvi che è riuscito alla perfezione Adesso vi faccio vedere che ho ottenuto sia Espion che Umbreon Andiamo scaliamo Eevee per cambiare il nome Eccolo qua l'altro esperimento fallito che è Sakura Che non l'ho ancora fatto evolvere però ci ho provato col primo e non l'ho riuscito La seconda volta, quindi pace La prima volta è riuscita alla perfezione Come potete vedere ho ottenuto Espion Che abbiamo cambiato il nome Che è il nuovo Pokémon, eccolo qui Carino, a 1655 Nulla di che però io sono a livello basso, non posso pretendere tanto E l'altro, eccolo, Umbreon Come potete vedere, eccolo qui Beh, sbagliato E al primo tentativo ragazzi vi giuro che ci riuscite Perché funziona Poi non capisco perché non è riuscito a farlo con gli altri Però col primo ha funzionato Quindi ragazzi vi consiglio di farlo E niente È un video molto breve di questo di Pokémon GO Ragazzi Se non vi funziona potete scriverlo sotto nel commento su YouTube Però secondo me funziona Perché ci sono riuscito io al primo tentativo Al secondo non so perché Veramente non sono riuscito Però, vabbè Si riesce ad ottenerli, insomma Io ragazzi finisco qua Spero che il video vi piaccia Lasciate un like se vi è piaciuto E iscrivetevi al nostro canale Per vedere gli altri video Da Arineganevo è tutto E ci vediamo sul prossimo episodio Ciao